Oggi è piovuto, non tantissimo, però un paio di acquazzoni sono venuti, ora stiamo a vedere che cosa c'è, cosa ci succederà, penso che la voglia di pescare è tanta, quindi andiamoci sotto dai. Allora, vediamoci in questo gonzale di piante, vediamo se riusciamo a passarci un sentiero, vedo già il fiume, come vicino, queste volte non devo camminare tanto per arrivare. Allora, diciamo che siamo su spot, ok, proviamo subito, un paio di uscite a topo vuota, un paio di lancettini a topo vuota e vediamo cosa succede. Allora, vediamo. Allora, vediamo. Allora, vediamo. Allora. Allora. Allora, vediamo. 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 dove va? dove va? vediamo vediamo appena un po' di pioggia si mettono subito in cazza che bestie bello questa oh questo qui è un posto che frequento adesso sono un po' stancare adesso oh ok il J13 jointed primo lancio primo lancio due jointed ok fanno la differenza vedete che la fanno ecco la fanno ecco vediamo questo vale questo io non ci ho messo tanto che vado fuori non è enorme che vediamo 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 se riesco a prenderlo ok guardate le punze macchina ok ci vediamo adesso ce l'ho fatto bene qui il terreno è scivoloso quindi ho scordato le pizze vale tanto ok ok vai 20 40 60 80 100 100 100 100 è stato ok 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 allora è andato vediamo se piove devo pulirlo ma ecco la buca ce l'ho ce l'ho oh questo è piccolino questo è piccolino questo è piccolino questo è piccolino ma l'ho preso per la coda comunque questo è piccolino e l'ho preso per la coda comunque si stanno muovendo vediamo questo è piccolino e l'ho preso per la coda e l'ho preso per la coda ok piccolino piccolino mettiamo giù anche questo si dai poi lo mangiamo stasera ci siamo qua allora